Uuuu, team abbastanza esotico che supero di mille, attenzione, ma com'è il 90, vedi che ora non c'era al 100, poteva superarmi il tizio Vabbè, e qua naturalmente, manco lo statico che si fa, così, così, e abbiamo vinto Poi per canto che non mi stia dando i buff di danno quando mi servono Ciao bello 300.000 turno 1 Scusate, non vuoi Ma non è il problema del team che gioca, è la gente che è skillata Gioca cibo doggio questo Ah, non mi devi secciarmi prima di tutto Mi hanno rotti i coglioni sta gente contarmela, eh, devo essere proprio sincero Devo fare prima questa O prima questa, no Prima questa e poi questa Vediamo Se c'è si può doggio, non gli faccio un cazzo a rimuo Non so Hitto qualcuno così a sentimento Beh, secondo me ne avrei shottato il muro, eh, non vorrei, però Perché nel duck c'è il fatto che c'è damage di duck c'è di base Ahhhh Praticamente è shottato, sì Avessi scolato un AT2 o qualcosa, l'avrei shottato Ah tu la devo provare a buttare giù il muro Ah, si vogliono un pochettino dopo quanti HP sono arrivato Questa grande mossa comunque non la vedo Però non c'ho il buff di HP, quello è il buff alla def quello C'ho 600.000 HP Ah no è l'aumento di PS, ok E ancora non è full buffato Si invadi Si invadi Eheheheh Chill uomo, chill, chill Non ha manco grid Anzi, una hit ha fatto 160.000 Triple hit grittato era tipo mezzo milione quasi Eheheheh 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 Non ho senso sta roba Ma che por di? Ma sbroccato da fare schifo Eheheheh Ma io non ho il buff ai danni per il meme E me l'ha dato pure Eheheheh Guarda che prima c'avevo l'impunità Anche non mi ha nemmeno debuffato con sare il verde E quindi adesso crit e faccio pure più danni Ah ci ha tirato 800.000 di Madonna Madonna E ha critato solo sull'Utosir Avesse critato sugli altri due Vabbè zina Sto cosa non ha il minimo senso Aaaaah A posto Ma contro questo Qua proprio fate la breghiera Ma io sto qua e non faccio nulla Ma per i prossimi 3-4 turni Tra non giochiamo non vi preoccupate Non famo nulla Stavo nel circo Se dovete andare al forno solo andate a fare un caffè e prendetevi qualche cosa da mangiare Vedete voi Io me la cillo qua Se vinciamo è a culo eh già ve lo dico Sì 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 Scam Ok Goder l'abbiamo andato a f*** che era il peggior coso esistente Sì Mò c'è ultilasci di Merlin Eh Ave Cesare Però in realtà non burta perché mi sta attaccando a tu Esca animation Di Merlin di doppio sins Non mi posso neanche buffare che c'ha Rimuro Oddio però Mi ha dato l'invulnerabilità Mi ha dato l'invulnerabilità E non mi gritta Olè olè Mi avessi dato doppia skill L'avrei shottato Niente signori Noi non dobbiamo più giocare con tiz Però non mi può lockare gli attacchi Bello che sto per vincere pure contro il team Peggiore da beccare contro Quattro, grazie Mi hai tolto tre carte de merda Doppia miglia No, Reynard Ma poi dipende, fanno due cose diverse Di pure Reynard Però se devi prendere il personaggio singolo Reynard Proprio alzi le mani Tarmen e chi ce l'ha, scusami Ce l'ha pure 5-6 Ah ecco chi è che c'ha Ah vabbè ma c'ha Tarmen blu Ma vattene la pia del culo Allora Grande bar meme fino alla fine Ah tutte critate ha fatto Che bello Noi ha buildato danno critico Non possibilità danno critico Noi ha buildato possibilità critico Danno critico C'ha un'equipe full possibilità critico E l'altro full danno critico Va su Gps Attenzione Bot O ci può dodge Bot però Sempre T2 Turno 1 Skillate Mi raccomando Ah ma è un bot questo Quindi essendo un bot Facciamo fare Sempre la solita fine IAM Devo dire Prima questa e poi questa Mi dimentico sempre Perché quella si basa Su quanti PS abbiamo totali E l'altra invece Su Sul massimale Quasi Ma non comprai Kidna Te la prendi al garantito Tanto ci arrivi Non ti preoccupare Vabbè Comunque personaggio Sbroccatissimo Bei down Un po' rotto Un pochettino Nel Cile Supremo Stiamo proprio Qua addirittura Posso mimare così Manco voglio dire una cosa Tanto è un bot Per fare grandi attivi Io non voglio manco Immaginare un T Che cavolo esce La potenza di ban Poi ban C'ha i suoi Di tipo Credo di si Se fammi il fest Tema umano Tipo Chiastro Reynard Potrebbe essere Tanta roba Ok abbiamo contro Un bot Credo Che tipo Il team contro È quello che doveva Partire per primo Vediamo un pochettino Ah c'ho pure il danno Inflitto aumentato Oh no ma che palle Sto cazzo di danno Sciottiamo monoi No mi sa che è un player Invece Vediamo Perché le carte Non sono fluide Ma vedi 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 Lo conosco troppo bene Sto gioco 300.000 turno 1 Ma che forti 300.000 turno 1 Illusione non serve Tanto uso la skill Per buffarmi E quindi baitare il cipollino E mo come me lo butto giù il team Deve dire tipo doppia ulti Solo single target di Liria Ecco mo che ho detto già doppia ulti Già c'ha ulti rush Però se non mi locca l'attacco qua Sta a sbagliare C'è credo che provi in one shot Nemmeno Ma sta lì a quant'è? Se sei per far sta cosa per forza se sei Quanto c'ha di PS scusami? 457 Non c'ho nemmeno il buff ai danni La vedo difficile Shotto zeldis allora Non ce la faccio male Ma più è altro perchè non ho beccato Se avessi beccato il buff che mi aumentava il danno Le statistiche ci avrei provato Giusto per Fisco sempre così le partite Sempre così